1, 2, 3 Mamma Dima, il tuo grande pieno da sorrida Ciao ragazzi, sono Dario e sono un animatore della Mamma Dima Animation Sono qui per informarvi che tra un paio di settimane si interrà un evento unico e ripetibile Il quinto stage nazionale della Mamma Dima Animation Un sacco di gente da tutta Italia per farvi partire nelle migliori strutture e stile Stiamo cercando gente come voi, tanti tanti ragazzi E naturalmente io sto cercando soprattutto DJ per il ruolo che mi compri Il DJ naturalmente durante l'estate non metterà solamente la musica, non suonerà solamente durante la serata Ma avrà un sacco di ruoli importantissimi Sarà l'addetto che gestirà le luci durante uno spettacolo Perché lo spettacolo è la base fondamentale dell'animazione Immaginate un'animazione estiva senza un cabaret Non è animazione, quindi il DJ gestirà non solamente la musica Ma anche le luci, tutti gli spettacoli E sarà in grado di poter rispettare quelle tempistiche Che le verranno dettate dal capo animatore Cosicché da poter mettere su uno spettacolo, un cabaret, un verità Con i fiocchi Naturalmente tutto contornato da tutti gli animatori che saranno vostri amici Tra le ballerine, i contattisti, i torneisti Sapete gestire un sacco di playlist Da musica d'ascolto a musica pop Potete gestire la musica per la baby dance Sapete essere DJ a 360 gradi Dei video e propri tecnici audio-luci Ed è quelli che stiamo cercando Stiamo cercando proprio te Quindi ti aspettiamo per il quinto stage nazionale della nomadima animation Mi raccomando, contattaci Ti aspettiamo Ciao P Ciao P